Musica Lo sblocco delle infrastrutture è essenziale per lo sviluppo del paese e delle imprese. Confartigianato non ha dubbi su questo assioma ed è per questo che parteciperà alla manifestazione del 3 dicembre a Torino che vedrà riunito il mondo delle imprese. Un tema così importante che Confartigianato ha deciso autonomamente di replicare con una seconda manifestazione a Milano il 13 dicembre. Noi abbiamo preso un impegno importante per cercare di mantenere a livelli che hanno raggiunto negli ultimi decenni le piccole e micro imprese, livelli di competitività che possono tranquillamente competere con le più importanti aziende di livello europeo. Noi questo obiettivo non vogliamo perderlo ma per non poterlo perdere abbiamo bisogno ovviamente di condizioni che ci permettono lo sviluppo e il progresso e questo può avvenire anche e in particolar modo attraverso le infrastrutture. Quindi la realizzazione di infrastrutture è il tema principale ed è un tema sul quale Confartigianato si sta battendo appunto attraverso la partecipazione a queste due manifestazioni di primaria importanza. Quello delle infrastrutture è un argomento che va declinato anche a livello locale, che si parli di termovalorizzatori piuttosto che di connessioni viarie o digitali. Per il presidente di Confartigianato Prato, Luca Giusti, da troppo tempo si parla di progetti rimasti solo sulla carta che si tratti di terza corsia della 11, di 5G, di termovalorizzatore o interporto. Le infrastrutture sono all'ostatura imprescindibile per lo sviluppo delle imprese, ha ribadito Giusti. Ovviamente le imprese possono agire al meglio soltanto in contesti in cui possono sviluppare e mostrare tutta la loro capacità e questo avviene con infrastrutture che non si fermano soltanto o solamente alle azioni viarie. Ripeto, e di questo ormai credo che tutti ne siano profondamente convinti, la necessità di avere comunicazioni e soprattutto capacità di movimento è fondamentale. Non è possibile pensare di tornare a muoversi attraverso i corsi d'acqua, per cui tutto quello che è necessario deve essere fatto, pur nel rispetto ovviamente ed esclusivamente della salute dei cittadini. Ma le infrastrutture non si fermano qui, parliamo anche della realizzazione di termovalorizzatori, parliamo della realizzazione e dell'ampliamento di quelli che potrebbero essere le infrastrutture come un interporto e noi qui su Prato ne abbiamo veramente uno di importanza notevole. Parliamo di tutte quelle infrastrutture come potrebbe essere una rete di 5G che servono alle imprese. Questo è l'obiettivo principale. Le nostre imprese sono sulla breccia, sono ancora a combattere contro un'arretratezza che purtroppo anche sul livello locale si sta manifestando da un punto di vista di realizzazione. Abbiamo tanti progetti, abbiamo tante idee, abbiamo tanti sogni, ma purtroppo a tutt'oggi ancora non abbiamo visto, realizzato e non si sta ancora realizzando quelle che sono le opere primarie. Grazie